Il sindaco di Hiroshima chiama e le città rispondono, in questo caso Macerata risponde all'appello antinucleare pensato in questa bellissima occasione con la Presidente della Camera Laura Boldrini. È una sensibilizzazione importante, soprattutto una rete che mette insieme le città e i comuni, in questo caso trasversali del mondo. Credo che da questo punto di vista le città possano avere un ruolo, in questo caso Macerata vuole esserci, come io spero possano aumentare le città partecipanti e Anci può avere un ruolo determinante.